È prevista per martedì 13 dicembre l'apertura delle buste giunte al comune di San Giovanni per i lavori destinati ad aprire finalmente dopo lunga attesa al parcheggio in via 2 Giugno nelle immediate vicinanze al centro storico sangiovannese. Il bando si chiuderà infatti proprio quel giorno, l'aggiudicazione sarà immediata. Si tratta di cantierare l'area per parificare l'asfalto ed inserire a quel punto i primi 60 posti auto totalmente gratuiti con una parte però destinata ai residenti del centro storico. Sottoposti quindi al regolamento della ZCS che già è attuata in altre zone come un tratto di via Piave, via Siena e via Venezia. L'assessore David Corsi ha spiegato che dall'apertura del cantiere serviranno circa tre settimane per il completamento dei lavori. Ormai non più possibile dunque sfruttare questi posti per lo shopping natalizio anche per la logistica relativa all'approvvigionamento dei materiali necessari. Questo parcheggio sarà comunque il primo regalo del 2017. Da notare che per il momento non è prevista una nuova apertura con ingresso ed uscita esattamente all'incrocio di via De Giugno con via Martiri della Libertà.